Devo essere bellissima oggi. Devo andare a fare la spesa. Perfetto! E' maggio e ho tantissimi chili da perdere. Devo mettermi sotto, devo mettermi sotto. Ci sta da brutto a pranzo. Poi rimaniamo un po' leggerini. Anche domani facciamo una bella insalatina. Ok, l'uovo che fa bene. E non è troppo il po' calorico. E la ricottina, che non è molto grasso. Quindi dovrei farcela. Neurotipica quando nessuno la caga. Ma comunque passano nella sua zona. La caga. Grazie.